Buonasera amici, mi chiamo Dabora e questo è un canale di Alta Sartoria Italiana. Oggi non facciamo l'introduzione solida, iniziamo immediatamente a vedere come rivestire le cinte, che è l'argomento della lezione di oggi. Allora, vedete, ho le due tele con cui ho fatto la prova del pantalone. Allora, le due cinte, quella destra più lunga da uomo e quella sinistra più corta, sempre da uomo, da donna saranno invertite. Per quale ragione? Perché c'è una sovrapposizione, vi ricordate, di tre centimetri. Nel caso, questo è il davanti, nel caso da donna sarà così, nel caso da uomo sarà l'inverso, saranno così. Questo è il davanti del pantalone, voi guardate il davanti del pantalone. Quindi questo è il rovescio della mia cinta, la parte che va addosso al corpo. Bene, quindi, individuata la destra e la sinistra, io lavorerò da uomo, le segnerò per non confondermi. Quindi quella più lunga, quella che andrà sotto, la mia cinta destra da uomo, io la segno con un angoletto tagliato in questo modo, e quella opposta la segnerò così, ok? Così non mi confondo nel momento in cui vado a rivestirle. Bene, questa, quindi dovrò mettere il mio rovescio della cinta, quello che andrà avanti, con il rovescio del tessuto, e visto che non è uniforme questa parte, come spesso vi capiterà di avere quando andate a tagliare i pezzi, no? Che non è proprio dritta, precisa. Se avete una rastrimmazione qua, cercate di mettere, di prendere quella più larga, mettere la parte più larga della parte del davanti, quella che avete intaccato, ok? Adesso vedremo anche perché, e quindi le separo, così. Adesso sono pronta a lavorare, ok? Bene, dovrò prima di tutto, prima di curvarle, cominciare a sagomarle, perché nel momento in cui finirò il pantalone non avranno questa altezza. Se voi utilizzerete la tela di lino per crearla voi, questa tela qui, la sagomederete direttamente con le misure che vi sto per dare, altrimenti se avete questa dovrete un pochino rifilarla, vi faccio vedere come. Allora, questa qui, quella più lunga, avrà tre centimetri di inserimento sotto l'altra, nel davanti, no? Dove c'è la patta, questa parte sarà inserita sotto. Quindi segno i miei tre centimetri, ok? Segnate i miei tre centimetri, so che questo, questo punto, questi tre centimetri qua, saranno quelli che corrisponderanno alla mia bottonatura. Quindi avrò così, si sovrapporranno di tre centimetri, ok? Vuol dire che questo è il punto in cui dovranno avere la stessa altezza. Adesso le vado a rifilare, ma qui dovranno avere la stessa altezza, altrimenti sovrapponendosi una sarà più alta e l'altra sarà più bassa. Quindi questo è il mio primo riferimento per la rifilatura su questa cinta, mentre su quest'altra il mio riferimento sarà qui. Quindi questa parte dovrà essere alta quanto questa parte, ok? Questa sagoma qui dovrà sovrapporsi e inserirsi qui sotto. La parte dietro invece andrà affrontata dietro sul cavallo del pantalone, quando io chiudere il pantalone le due cinte andranno a combaciare dietro e anche in quel punto dovranno essere alte uguali. Quindi se io vado a rifilarne un pezzettino adesso le devo fare precise, altrimenti dietro quando vado a cucire una cinta potrà essere più alta dell'altra, ok? Ed è brutto a vedersi. Come faccio? Vado ad identificare qual è il punto di cucitura, perché vi ricordate la cinta avrà una cucitura e avanzerà ancora, perché avrò ancora dai 4 ai 6 cm, in genere 6 cm di margine per modifiche dei pantaloni nel tempo, no? Vi ricordate? Ve l'ho spiegato quando vi ho fatto vedere come mettere il cartamodello sul tessuto, vi ho fatto vedere il margine. Il margine è di circa 6 cm, e anche la cinta dovrà essere lunga 6 cm, e ve l'ho fatto vedere quando abbiamo aumentato le cinte della prima prova. Quindi ci sarà un punto preciso che corrisponderà alla cucitura da questa parte, e quale sarà quella della lunghezza della vita. Cioè, io so che la mia vita, in questo pantalone che sto facendo il mio padre è 88, dovrò fare la metà 44, ok? Quindi 44 lo individuo qua, qui, quindi dai miei 3 cm, quindi da qui misurerò 44, e qui invece, su quest'altra cinta, il 44 invece lo indico da qui, dal margine, quindi da qui troverò 44. Così. Eccolo qua. Qui. Quindi, questo punto qua, quando andrò a cucire, a cucire, sarà cucito così. Saranno cucite così, ok? Vuol dire che adesso che andrò a rifilarne un pezzettino, anche qui dovrà essere della stessa altezza. Perché segno l'inizio e la fine della rifilatura? Perché non sarà uniforme. Cioè, io non taglierò un pezzettino identico su tutta la lunghezza. Farò, sarà leggermente più alta davanti, e andrà a essere rifilata, avrà una differenza di mezzo centimetro sul dietro. Perché nei pantaloni di alta sartoria, c'è questa cortezza, che migliora la vestibilità, che dà da mezzo centimetro a un centimetro di differenza, a seconda del pantalone. Insomma, io in genere faccio intorno ai 5-7 millimetri di differenza tra l'altezza che tolgo qui, che tolgo qui sul retro, scusate, e un pochino meno sul davanti. A volte sul davanti, come in questo caso, non tolgo nulla. Quindi, una differenza di rifilatura, io la faccio intorno ai 7 millimetri. Come faccio? Intanto devo assicurarmi che sia dritta, perché, non so se vi ricordate, noi abbiamo curvato con il ferro. Quindi, mettendo le dritte, avrò meno imprecisione nel rifilarla. Sul retro, la parte che andrà cuscita dietro, quindi questa parte che corrisponde a questa qua su, io segno i miei 7 millimetri, 7 millimetri in meno, ci sono 8, ecco qua, 7 millimetri. Quindi, su questa linea, che è il retro della mia cinta destra, da uomo, tolgo 7 millimetri. Qui davanti non tolgo nulla, quindi dovrò fare una linea che parta da qui, e finisca qui ai 7 millimetri, e proseguirà qui dritta, quindi qui proseguirò i miei 7 millimetri, lo segno con una riga, così, perché qui si ferma la mia rifilatura, mentre qui andrà a zero. Quindi, prendo una riga, lunga, e vado a segnare, da zero, a 7 millimetri. Così. Per questo dico, deve essere dritta la cinta e non curvata, la devo riportare dritta, con il ferro, se l'ho curvata troppo, in fase di prima prova, perché altrimenti non viene precisa questa linea. Aiutatevi con una matita, non con il gesso, perché la matita è un pochino più, più precisa in questo caso. Ok. Quindi, avrò qui zero, e qui proseguirà la stessa altezza. Sto parlando della cinta destra, è da uomo, mentre qui, 7, e tutta questa parte, andrà, questa parte qui sotto, andrà sportata. Farò la stessa cosa da là all'inverso, ovvero, ci saranno sempre i miei 7 millimetri dietro, nel punto in cui dovrà combaciare con l'altra, alla chiusura, alla cucitura del cavallo. Quindi, farò i miei 7 millimetri, ok? Qui proseguirò dritta, perché la parte, questa è la parte che rimane interna, ok? Mentre da questo punto, adesso non più, ai 3 centimetri, ma al bordo, perché questa qui, la finta, non è la parte, non ha i 3 centimetri di sovrapposizione, è questa destra, che finisce sotto la sinistra, questa sinistra rimane così, questo punto, da questo punto, ai 7 millimetri che ho segnato lì, vado a segnare con la mia riga, anche questa, assicuratevi che sia ben dritta, io uso un riferimento, in questo caso, io uso questo riferimento qui, ma potete usare qualsiasi riferimento, che vi dia la certezza che è dritta, mettete una riga vicino, e vado a segnare la mia linea, bene, adesso procedo con la rifilatura con le mie forbici, prendo le mie forbici, e taglio, ok, entrambe le cinte, bene, una volta rifilate, vado a rivestirle, mi sono dimenticata di dirlo, queste cinte, quando le acquistate, hanno un'altezza di 5 centimetri, che comprende anche un centimetro di cucitura, quindi, quando voi andrete a formarle, a sagomarle, sulla vostra tela di lino, sapete che queste misure, partono da un'altezza, di 5 centimetri, che poi vanno rifilate, secondo la misura che avete scelto, quindi, fate anche una sagoma di 5, lunga, la lunghezza che desiderate, e poi fate, queste rifilature, con lo scarto che, deciderete voi di fare, bene, adesso, andrò a rivestirle, abbiamo detto, che, l'altra volta, che avrò bisogno, vedete, qui la cimosa dovrà essere, dovrà piegarsi, e non essere visibile sul davanti, quindi, non potrò fare così, altrimenti, sul davanti si vedrà la cimosa, cercherò, di scendere, almeno, quel mezzo centimetro, dalla linea rossa, in modo che, girando, sia sufficientemente interna, da non vedersi all'esterno, ok, poi, dalla parte dove c'è l'intacca, che è il mio davanti, dovrò avere il margine, di almeno un centimetro, sotto, andrò a rifilare, perché è andata a gli adanetta, ed è per questo, che dovete verificare, che qui giù, cioè, sulla parte dietro, e la parte davanti, entri, completamente, la cinta, anche se dovesse essere, così, a filo sotto, non importa, perché comunque, noi andremo a rifilarla, erano i margini, che vi avevo spiegato, la volta scorsa, quando vi ho detto, come tagliare, i pezzi di tessuto, ok, quindi, i margini sono, senza cimosa, almeno, un centimetro, un centimetro e mezzo, in questo caso, è sufficiente, che dalla cimosa, abbiamo almeno, un bel mezzo centimetro, ok, stessa cosa, dall'altro lato, adesso vi mostro, come imbastirla, allora, dobbiamo fare, un grande punto mosca, che inizia, vi ricordate, dalla parte opposta, rispetto alla mano, che utilizzate, e, dobbiamo attaccare, il tessuto, alla cinta, ok, quindi, facciamo il nostro punto mosca, manteniamo, mi raccomando, i margini, che abbiamo, questo è il davanti, no, il davanti sinistro, e, man mano, che procediamo, dobbiamo, fare in modo, che sia ben aderente, quindi, io tendo, a, a tirare, un pochino, il tessuto sotto, e questa sopra, perché, voglio che sia ben tesa, cioè, voglio che sia ben tesa, senza esagerare, ovviamente, il tessuto, e deve aderire, proprio perfettamente, quindi, man mano, che io procedo, non faccio semplicemente, un punto mosca, faccio attenzione, a mantenere, la distanza, che ho deciso, di mezzo centimetro, e, man mano, che proseguo, faccio così, non so se, se si vede, tiro, fermo, tengo ferma, la stoffa, e tiro, in modo, che aderisca, che non ci siano, non ci siano, lentezze sotto, deve essere liscia, deve essere piatta, ok, quindi, tendo a tirare, un pochino, man mano, che procedo, e faccio, questo lavoro, sempre con un occhio, al margine, qua sopra, se uso la cimosa, se non uso la cimosa, avrò, comunque, l'occhio, per mantenere, una distanza, definita, abbiamo definito, un centimetro, un centimetro e mezzo, dal bordo, e ricordatevi, che battagliate, in dritto filo, la stoffa, per le cinte, e vi ho spiegato, come, nel taglio, nel video, che descrive, come tagliare, i pezzi, per il pantalone, e procedo, così, fino alla fine, della cinta, ok, su tutte e due, le cinte, ovviamente, vorrei ricordarvi, che prima, di, soprattutto, se è da donna, prima, di imbastirlo, se il tessuto, non cede molto, dovete curvarla, separatamente, quindi, curvate, separatamente, la cinta, dal tessuto, se, non lo fate, prima, lo fate, dopo, ma, non lo fate, fatelo in questa fase, di lavorazione, non quando avete, già chiuso, ma quando avete, appena, imbastito, cercando, di, di sagomarle, insieme, ok, tela e tessuto, in modo, da dargli, una, dare, dare una curva, da donna, che comunque, ha necessità, di una curva, un pochino, più accentuata, fate, prima, separatamente, le due, le due parti, tessuto, e tela, ok, quindi, fate questo lavoro, qui, dopo aver, curvato, andate a, rifilare qua sotto, quindi, qui, deve, ripiegarsi così, perché, è il davanti, e gli lascio, e lascio il margine, qui sotto, lo rifilo, e qui dietro, anche, qui dietro, lo rifilo netto, così, ok, qui, rifilo netto, così, e qui sotto, qui sotto, potrei farlo, anche, direttamente, la taglia e cuci, se non ho, la taglia e cuci, posso, rifilare, come sto facendo io, e fare, il sopramano, o, lo zigzag, in questo caso, potrebbe, anche andare bene, non si vede, ok, a me non piace, perché, a seguito tutti i miei video, sa che io non amo, fare, usare, il punto zigzag, al posto, del, 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 soprammano, ok, quindi, io adesso passerò qui, la taglia e cuci, e dopo, procederò, a tirare, e ripiegare, quindi, ricordatevi sempre, che, o, o decide di fare, la taglia e cuci, o decide di fare, qualsiasi altro, ehm, sopraggitto, tipo di sopraggitto, dovete, farlo prima, di ripiegare, perché reggerà bene qui sotto, e non molleggerà la stoffa, non tirerà la stoffa in maniera, ehm, ehm, non uniforme, quindi, bloccate prima tutto il sotto, bloccate prima tutto il sotto, e poi ripiegate qua sopra, ok, bene, adesso, vedete, io ho fatto, ho usato la taglia e cuci, adesso, andiamo a piegare, e a tirare bene, io ho l'abitudine di rifilare, voi se avete già il centimetro e mezzo, lascerete col centimetro e mezzo là, non rifilierete ulteriormente, qui, come vedete, c'è una quantità di stoffa, veramente, veramente eccessiva, ok, quindi, dopo aver riportato il margine, a un'altezza, decente, non vi preoccupate se non è uniforme, ma, ok, bene, vado a piegare, vado a piegare, a tirare bene, e ad imbastire, cioè, tiro bene, man mano che imbastisco, perché dietro deve essere, perfettamente aderente, non devono esserci bolle, non devono esserci pieghe, lentezze, deve essere proprio bella, piatta, liscia, 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 ok, queste sono le, le, le accortezze, eh, eh, del, dell'alta sartoria, ok, e mentre imbastisco, tiro bene il tessuto, lo vedete, tiro bene, e imbastisco, e procedo su tutta la lunghezza, ho terminato, e questa parte la lascerò aperta, quella davanti, sia sulla cinta che dall'altra, e poi capirete perché, eh, vi volevo specificare un'altra cosa, quando avete un tessuto, non, non a tinta unita, quando avete un tessuto, a, gessato, in cui, vi ricordate la gessatura, nel caso, delle cinte sarà tagliata per così, oppure avrete una quadrettatura, insomma, una fantasia che va fatta a combaciare, bisognerà farla combaciare anche sulle cinte, ovvero, io avrò la parte corrispondente dall'altro lato, che proseguirà la mia linea, se ho un gessato, o il mio quadretto, se è la quadretta, le righe della quadrettatura, e dovrà avere la stessa accortezza, nella cucitura del dietro, della cinta, dovrà proseguire su tutta la circonferenza, della vita, la stessa altezza di, insomma, dovranno combaciare, e come faccio? L'unico modo per farle combaciare perfettamente, è avere precisione, nel posizionare, la mia tela, sul tessuto, cioè, che sia, per esempio, immaginate che questa non sia una linea di cimosa, ma sia una linea di gessatura, io prenderò una linea di gessatura, o una linea della quadrettatura, come mio riferimento, e mi metterò, a distanza predefinita, mantenendola uniforme, su tutta la lunghezza, e soprattutto, sarà la stessa distanza, da quel riferimento, anche sull'altra cinta, quindi dovrò avere precisione, di scegliere lo stesso riferimento, su entrambe le cinte, e dovrò avere la precisione, di mantenere uniforme, la mia distanza della tela, sulla piega, probabilmente la piega, dovrà cadere, nello stesso punto, rispetto al mio riferimento, in modo che, quando andrò a chiudere il pantalone, combacerà perfettamente, il mio disegno, di quadrettatura, o di gessatura, o qualsiasi altro disegno, avrò deciso di far combaciare, ok? Detto questo, abbiamo terminato, la lezione di oggi, e la prossima lezione, vedremo, come imbastire, tutto il pantalone, non solo la cinta, in funzione, della nostra seconda prova, ok? Non c'è la conclusione solita, con la mia faccia, quindi vi saluto, arrivederci, e ci vediamo, venerdì, per la rubrica, la bici del cucito, esercizi pratici, per imparare le basi, vedrete, sarà una cosa molto molto carina, arrivederci, a venerdì!